Umbria Radio, News, Music and Reflections L'immagine del suono, hashtag Jazz a Perugia una mostra da non mancare a Perugia al Museo Civico di Palazzo della Penna per tutta l'estate avremo questa bellissima mostra 350 fotografie da 35 fotografi locali, nazionali ed internazionali su una Perugia invasa dal jazz esattamente non è la storia di questo festival che oggi è ancora direi sempre di più uno dei più importanti festival di jazz non è la storia anche se inizia proprio dalla primissima edizione nel 1973 ma è proprio uno spaccato, proprio l'impressione, l'espressione di ogni singolo fotografo proprio il loro obiettivo, cosa vedono e che cosa riportano del jazz a Perugia quindi grandissimi nomi di artisti che sono stati immortalati però a volte addirittura lo stesso artista visto da diversi fotografi proprio per dare anche questa anima propria ed è una mostra che ha avuto un grandissimo successo fin dall'inizio appunto si è aperta prima di Umbria Jazz c'è stata ovviamente sempre durante e si protrarrà fino al 10 settembre questo vuol dire abbinare l'immagine al suono non è soltanto l'immagine e il suono è l'immagine e il suono anche perché molti eventi collaterali quindi anche piccoli concerti incontri con i fotografi workshop dei fotografi si svolgeranno durante tutto il periodo in cui rimarra aperta la mostra devo dire molto accattivante molto bella ed anche posso dire molto unica anche se così è un nonsense quasi nell'espressione perché mostre di questo tipo di questa levatura e di questa proporzione non ne sono state fatte nel jazz almeno in Europa e quindi abbiamo visto da tutti i visitatori internazionali che sono venuti turisti e amanti di jazz durante il festival abbiamo visto quanto questi sono apprezzati e quanto la mostra è piaciuta tra l'altro un bellissimo catalogo che riporta appunto le diverse espressioni dei diversi artisti e fotografi la mostra è stata curata da Angela Madisani e qui a Perugia ha avuto il supporto di Marco Nicolini e di naturalmente tutto lo staff dell'assessorato un bellissimo prodotto che racconta anche l'evoluzione di un festival e soprattutto anche di una città che l'ha accolto e si è diciamo così ha continuato un percorso che oggi l'ha portata ancora a questa edizione e che sta anche andando così incontro al mondo è una mostra che ho fortemente voluto proprio perché ritengo che Perugia abbia un forte legame ormai con il jazz e che pure le pietre suonino jazz e quindi l'idea è stata quella proprio di allargare la visione non soltanto ai nostri bravissimi fotografi locali e ce ne sono ma anche a fotografi di fama nazionale ed internazionale partire non so con le foto del celebre ahimè scomparso Mimmo Rossi o di Sergio Coppi oppure appunto a tutti gli artisti che continuiamo a vedere li chiamo proprio artisti perché sono dei fotografi che sanno esprimere davvero l'anima e il suono e che continuiamo a vedere durante le varie edizioni del festival quindi non so dal giapponese Fuji alla Adriana Matteo argentina che vive a New York inglesi ce ne sono di nomi internazionali molto importanti ma anche nazionali Pino Ninfa ad esempio ma la cosa bella è che a ognuno di loro laddove è stato possibile abbiamo dedicato una sala intera per esempio a Mimmo Rossi oppure delle pareti proprio per dare questa impressione della loro personalità ecco ci tengo molto perché è una visione diversa dalla solita mostra che si può fare sul jazz o su altri soggetti qui sono messi a confronto a paragone e ad unirsi quindi anche in sinergia tutti questi grandi nomi ed è molto bello perché davvero si risale a quelle edizioni ancora dei primissimi anni a quando tutto si svolgeva all'aperto a quando poi invece il festival dopo una brevissima interruzione è ripreso nei luoghi chiusi e quindi si vedono anche le bellissime immagini della Galleria Nazionale dell'Umbria dove sono stati fatti dei concerti splendidi o nei teatri Teatro del Pavone Teatro Morlacchi quindi Perugia che si dischiude non soltanto fuori e continuano naturalmente anche dei bellissimi concerti all'aperto nella piazza 4 Novembre dove insiste la fontana di piazza più bella del XIII secolo beh le note del jazz hanno accompagnato lo stupore dei visitatori ad una città così bella come Perugia e quindi ritengo che anche questa mostra rappresenti un'occasione di visita tra l'altro in un momento in cui Perugia ha bellissime mostre quindi sta offrendo veramente un ventaglio di proposte culturali e turistiche grandiose quindi vi invito veramente a venire Perugia Palazzo della Penna fino al 10 settembre questa bellissima mostra l'immagine del suono hashtag jazz a Perugia Umbria Radio News, music and reflections Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti